Musica Weeey bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video Io sono Xyuder e oggi ragazzi voglio parlare ovviamente insieme a voi di tutte le ultime novità e dei nuovi segreti che sono stati scoperti ovviamente per il nostro Fortnite Nel video di oggi ragazzi parleremo delle nuove skin che ancora non sono state rilasciate in questi giorni natalizi insomma di festività Vedremo anche ragazzi dei simboli segreti che sono stati scoperti in un luogo molto molto particolare per quello che riguarda la season numero 7 Forse il luogo più importante di questa season e poi ragazzi ovviamente magari non lo avete ancora sentito in giro ma parleremo di ciò che sta capitando alla nuova statua presente nella mappa di Fortnite Ovviamente ragazzi mentre state guardando il video vi ricordo di lasciare un bel pollicione in su se ancora non lo avete fatto mi raccomando Fitto la voce Mi raccomando iscrivetevi in tantissimi al canale E attivate la campanella per non perdere nessun aggiornamento nessuna news Ma prima Prima ragazzi lo sapete vi faccio la domanda vi faccio la domanda e mi rispondete qua sotto Raga voglio leggere le vostre risposte La domanda di oggi è davvero semplicissima Qual è la tua skin natalizia preferita? Ne sono già uscite un bel po' Ditemi un po', il Merry Marauder, lo Schiaccianoci, la Pilla, il Krampus, il Soldato Nevischio Insomma ragazzi fatemelo sapere qua sotto nei commenti Ma quindi, ciancio alle bande e bando alle ciance Andiamo subito a parlare del primo argomento di oggi che è una skin ancora non vista ragazzi Clockers, mi sembra che si chiami ed è veramente una figata incredibile Somiglia molto ragazzi a un outfit della Stella Ammantata Sapete ragazzi che è uscita al termine della season 5 Proprio gli ultimi due o tre giorni La skin della Stella Ammantata già presente nel Salva al Mondo Riproposta anche nella season 6 per due volte se non ricordo male E ragazzi viene invece trovata questa nuova skin Mi sembra un prete con quella roba lì che c'ha intorno alla vita Ragazzi anche la tunica va un po' a riprendere quello che ho appena detto Ma ovviamente si capisce benissimo che non è affatto amichevole E andiamo avanti perché c'è un altro super piccone non ancora rilasciato Bootstrap mi sembra si chiami se non ricordo male E come vedete è un bastone di legno che tiene appunto uno stivale Boot in inglese vuol dire stivale E ha appesi anche un'ampolla con dentro una pozione magica Che probabilmente si muoverà quando lo utilizzeremo E un sacchetto che non sappiamo bene che cosa contenga Non può essere anche se somiglia il piccone di una delle skin dei maghi Però è davvero molto molto bello da vedere Un altro piccone ancora non rilasciato ragazzi è il Longhorn Quindi il corno lungo che secondo me è bellissimo È veramente meraviglioso Questo piccone va a richiamare il Far West Non sappiamo è un po' che c'è e non l'hanno rilasciato Ragazzi non vedo l'ora di saperne qualcosa in più E per chiudere tra le novità ragazzi Questo piccone paiura veramente stranissimo Una vanga nera con degli spuntoni e un occhio centrale Che mi auguro essere un piccone reattivo Ovviamente ragazzi non sappiamo nulla Né delle skin che fanno parte di questi set che vi ho appena fatto vedere Né tantomeno quando usciranno Spero presto Ma ragazzi guardate un po' questa immagine Questa ragazzi è un'immagine presa da uno dei leakers Più importanti sul panorama mondiale di Fortnite E come vedete lui ha trovato parecchie skin Dove alcune come vedete dalla croce rossa Non sono ancora state rilasciate Come vedete il Krampus, Gnome e l'Ice Maiden Le abbiamo già viste Sono già state rilasciate Ma Snow Ninja quindi un ninja della neve Non si è ancora visto Lo street got che non sappiamo neanche cosa voglia dire Got ed essere una roba cattiva alla strada Non sappiamo bene com'è Il Nautilus Ma il Nautilus credo che si riferisca probabilmente al deltaplano Che vi ho mostrato nel video di ieri mattina La skin Angel quindi proprio Angelo E la skin Rhino ragazzi Una delle skin quest'ultima Più interessanti di questi giorni Perché ragazzi dovete sapere Che potrebbe esserci un collegamento Con la skin Rhino Con la statua Che vi sto facendo vedere In questo momento ragazzi Come vedete è la statua Che abbiamo visto essere stata inserita Proprio dietro Tempio Tomato Insomma dove hanno aggiunto un gruppo di rocce E questa statua Nessuno aveva capito fino adesso E nessuno tuttora Ha capito quale sia il significato di questa statua Ma ragazzi guardate un pochettino Con l'ultimo update La statua si è mossa ragazzi È stata modificata È stata modificata la posizione Del gigante di roccia I giganti di roccia venivano anche chiamati Rhino Quindi potrebbe essere qualcosa Che ancora noi non sappiamo E che verrà a far parte Della trama O di questa season O addirittura Della prossima Non è mai un buon presagio Quando si muovono le statue Ma ragazzi andiamo avanti E come vedete ci troviamo In un posto che conoscete tutti benissimo Sto parlando ovviamente Del famosissimo Ice Castle Quindi il castello di ghiaccio Che man mano vanno avanti le settimane Man mano si rivela A noi giocatori Di forte C'è un bug No Sì C'è una parte rialzata Vabbè Ragazzi nel castello di ghiaccio Voglio farvi vedere Tutto quello che sta girando Intorno alla parte Più interessante Della struttura Che è ragazzi Ovviamente La tavola rotonda Insomma ragazzi Questa tavola rotonda Non può essere qui Per caso E si pensa Che abbia Un significato Addirittura Che le sedie Intorno a questa tavola Siano esattamente Il numero di skin Che potrebbero essere coinvolte Con quello che succederà O al termine di questa season O all'inizio Della season Prossima Voglio subito Parlarvi Prima di Addentrarmi con le skin Che penso Facciano parte Dei simboli Insomma ragazzi Guardate un po' Guardate bene sul tavolo Lo vedete qua? Vedi questo simbolo? Guarda Se mi sposto sulla sedia C'è esattamente Lo stesso simbolo E non è un caso Ce n'è un altro qua Eccolo qua davanti Un altro simbolo E se guardo la sedia Ha lo stesso simbolo Ragazzi Sicuramente Non possono Stessa cosa Per questa sedia Stessa cosa Per questa sedia E ovviamente Via dicendo Per tutte le sedie Penso che non sia Un caso ragazzi Dai Non avrebbe senso Andare addirittura A mettere i dettagli Sugli schienali Delle sedie E sul posto Contrassegnato Io ragazzi Credo Che a questa tavola Ci siedano Delle skin Alcune che già abbiamo E altre che Probabilmente Vedremo Sicuramente L'ice king Ci sarà sicuramente Ci sarà per forza L'ultima skin Del pass battaglia Il castello Ha i suoi standardi Ovviamente Lui è il re Ma anche il ragnarok Ragazzi Perché Se voi notate Vi faccio vedere Un pochettino Di qua Fate mento locale Ovviamente La cosa particolare Di questo castello È che le fiamme Non sono fiamme normali Porco giuda Sono fiamme blu Ragazzi E se ci pensate bene Il permafrost Quindi il piccone Del ragnarok Ha la stessa Identica fiamma Proprio in centro La Valkyrie ad esempio Potrebbe essere un'altra Delle skin Che ha senso E che possano Sedere In questo tavolo Essendo anche lei In relazione Con il ghiaccio E secondo me Anche la skin La pilla Quella Che è uscita Ieri E l'altro ieri Ha qualcosa A che vedere Con una possibile Side story O addirittura Storyline Principale Che vedrà Il castello Di ghiaccio Protagonista O alla fine Di questa season O addirittura Per la prossima Beh ragazzi Per oggi Direi che Tutte le curiosità E tutti i leaks Ve li ho detti Spero ovviamente Che questo video Vi sia piaciuto Vi ricordo sempre Di lasciare Un bel pollicione in su Iscrivetevi Tantissimi al canale E noi Ci vediamo in live Ciao 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 Ciao